Il titolo del caro è Troppi grilli per la testa. Troppi grilli per la testa riguarda naturalmente il personaggio di Beppe Grillo e tutto quello che concerne la sua denuncia verso gli alti poteri. Beppe Grillo esce, sfonda una televisione perché lui è stato cacciato dalla televisione fin dal 1996. Le scimmie sono di due tipi, le scimmie non vedo, non sento e non parlo, quelle tradizionali e invece quelle di Beppe Grillo sono raffigurate vedo, sento e parlo perché lui attraverso i suoi blog vuole proprio parlare, vuole proprio denunciare questi fatti e è talmente arrabbiato che praticamente li rappresenta così tutta la sua denuncia. I movimenti sono quasi tutti oliodinamici, c'è il Boia che vuole fare l'azione di accettare con la sua ascia Beppe Grillo, Beppe Grillo che avrà un movimento rotatorio. il tutto si muove, si muove su una ralla, la struttura globale del carro si muove a destra e a sinistra, quindi sarà un effetto abbastanza notevole.